Maldini ha scelto il nuovo trequartista, avete sentito la notizia? Il Milan sta lottando per un posto in Champions League, posto che sembra più vicino dopo la nuova penalizzazione di 10 punti della Juventus. Tanto del prossimo mercato dei rossoneri passerà dall'accesso o meno alla massima competizione internazionale, sia per tenere tutti i top della rosa, sia per poter fare investimenti più importanti. Presto, anche per alzare l'umore dei tifosi dopo la sconfitta nell'Euroderby contro l'Inter, verrà annunciato il rinnovo di Rafa Leao fino al 2028, nel mentre Maldini sta già pensando a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei grandi problemi di questo Milan è stata la mancanza di scelta in attacco, dove De Ketelar non ha dimostrato di valere l'importante investimento fatto su di lui in estate. Paolo Maldini avrebbe quindi scelto il nuovo trequartista, infatti, in base a quanto riportato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, Nicolo Zagnolo potrebbe presto vestire rosso-nero. L'entourage del giocatore spinge per un suo ritorno in Italia, l'operazione sarebbe possibile non con un obbligo, ma con un diritto di riscatto. L'ex giocatore della Roma è stato molto vicino al Milan anche a gennaio, ma Maldini non ha secondato le richieste della proprietà giallorossa e di conseguenza Zagnolo è volato in Turchia, al Galatasaray, dove ha siglato tre gol in dieci partite. Lo vorreste al Milan?